e ben a tutti ragazzi oggi sono qui con un nuovo video di brawstars come al solito il quarto di questa serie che sta portando di brawstars in queste settimane che ormai si farà un po' saranno questi video e tanto vi dico che oggi caricherò sul canale un video di emily 2k20 nella playstation perchè sono riuscito a caricarlo e non mi spoilerò niente e ve lo metterò su youtube tra oggi e domani tanto oggi l'obiettivo del video è guardate cosa ho trovato in una cassa 10 minuti fa mentre fatti cazzeggiavo ho trovato bea in una cassa a caso ho trovato bea mentre fatica stavo dicendo papà papà apri una cassa a caso che voglio vedere se troviamo un brawler e questo è successo che trovo veramente un brawler bea non che non che mi piaccia tantissimo però è un buon brawler perché è tipo una piper però sempre epica quindi oggi l'obiettivo principale del video sarà andare a provare bea infatti infatti il nome del video sarà travo bea mentre faccio travo bea mentre apro una travo bea mentre potrei chiamarlo ditemi nei commenti come potrei chiamarlo perché stavo mi sa che lo chiamerò trovo bea in una cassa a caso mentre non stavo facendo niente potrei chiamarlo così vabbè bisogna iniziare con una sopravvivenza singolo e quindi iniziamo 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 bene bene sta bene sta bene sicolo con bea bene però tapporre le coppie perché è più difensiva però se per aia buono ho ucciso schiocchina aia no 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 dove scappare senti ci uccide ci uccide urca e devo un po' capire come si usa la sopravvivenza perché non la conosco tanto bene come volevo vedere ma all'inizio mi piaceva quando è nascita subito inizio a tempo con maxine però devo dire che ho visto i video di youtube perché è molto accorto non pensaci neanche buono perché non so che c'è neanche frizione mi ha segnato pensai perché ho bloccato ma che si prende se lo prende se lo prende caglia quel bull l'ho presa e l'ho uccido e l'ho uccido madonna stai mi doccando benissimo mi sono facendo un male al primo ho ucciso madonna stai mi sa che stai vita è morta mortissima no da è morta senza troppe difficoltà e uccidiamo mortissima nita e andiamoci bene e mi sa che adesso andiamo a prendere un'altra cassa pam e i punti per jesse adesso andiamo a fare una sopravvivenza tanto direi che possiamo il tornino magari ne porto un video dedicato solo al tornino ok partiamo subito con un carlo che potrebbe esserci d'aiuto perché questa distanza è un'altra cassa rompi quella come fai perché più lontano sei più danno qua non volevo neanche farlo bene 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 no c'è un carletto carletto no ma che si chiama ferma che parti quanto forte Ma io vado qui! Lo vado! 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 Mi sembra che c'è una rosa che se la campana, se la fa uccidere! No, se la campana! Sì, guardate, lo sta caccando di mare! È fortissima! Vinta! Senza troppe difficoltà è vinta! E vinciamo! Quindi devi andare a fare una partita in più bravole! Tanto ci manca! Ci manca pochissimo per arrivare! Tanto, come vedete, mi porto anche mezzo video con il mio amico, come vuol dire che avete visto! Tanto, guardate un po' qua! Ho sbloccato il gadget per niente che potrei trovare! Quindi, ha invitato anche il suo amico Dado, che è sempre in pratica lui con un altro account, quindi sta giocando con un suo amico che è venuto a casa sua! Quindi direi di mettere pronto! Quindi direi di iniziare alla grande! Sperando che lui metta pronto, perché questo potrebbe essere un problema! Tanto vi faccio vedere che mi manca pochissime 4750 coppe! Sono tutti... Quindi... Ehm... Iniziamo! Siamo pronti! Possibilmente! Ok! Anzi no! Mettiamo una footbrawl! Ok! Andiamo in footbrawl che è la mia preferita! scambiata! Ok! La bellissima forma! X... X... Non ho scoperto 10! X... C... Morta! Anche io mi sono dimentichati 3! Palla per Dado! Dado vi ricordo che è sempre in mio amico, però con un altro account, perché mi sembra cambiare i telefono scarico perche non lo aveva detto... metto un altro account! E con un altro account! Anche io mi sono dimentichati 3! Morti Mi sono fatto troppa difficoltà No, mi hanno ucciso Tento che quella Tento, hai vinta Guardate Che fa anche di imparare il nostro compagno Che sta via Un po' nel fighetto Tanto direi che Vincendo Facilmente Mente 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 Ma andiamo a farcene un'altra, ovviamente Se il nostro amico Oh Dissi No Ok, allora mettiamo una sopravvivenza Anzi, facciamo sempre una food brawl Dai E poi magari possiamo fare una sopravvivenza Per il rilasso Ok 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 Pensare a questa Bea qua Che è forzissima Fa quante forze Bea Se ci pensi Let's go explore Madonna C'è un disintegrato C'è un disintegrato C'è un disintegrato Dado che se ne va Se ne va Alla sto Dado 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 E lì cominciamo E lì cominciamo Posso qua Forza Forza E' un disintegrato Ed è vinta Cacca pox Ah Segnate E Mi direi Mi direi Mi direi Mi direi Mi direi Mi direi Facciamo l'ultima partita In sopravvivenza Si scusa Nel foot brawl E poi Mi lascio Andare Uccisa Quella rosa No C'è 150 Be cool E' un altro gol Mamma mia Quanto stian giocando bene Partiamo subito Madonna Quanto stian giocando bene Ma quanto Dado Tensi Si fa vedere Che giocata Uh Ho provato a buttare La Ho provato a buttare La E ho provato La Senti che è una finta No Senti Questa Penne Cattiva Ma non troppo Ma bombardino Ma che vuoi fare Ma che vuoi fare Continuiamo Continuiamo Niente Funzione Quasi 2-0 E' vinta Allora io ragazzi Mi è che Poi concludere In me Stavamo 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 Direi Che Andiamo A casa Ma Andiamo Arrivando Con Bea E' E' Saluto Tanto Abbiamo raggiunto I 4 Mira I 4 Mira 758 E' Poi direi Cosa possiamo Migliorarci Ditemelo Ditemelo nei commenti Ma io direi Di migliorarci Qual è quello più vicino Quello messo peggio Mr.P Quello ok Io direi di migliorarci Bea Di iniziare Bea Ragazzi Io vi saluto Io vi saluto E Vi Stasera O domani Caricherò il video Dell'invio Di M2K20 Che ho caricato E Bella